Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Sono ormai settimane che li vediamo occupare le piazze di alcune delle capitali di Europa e soprattutto delle più importanti città degli Stati Uniti. Si inginocchiano, scioperano e protestano contro il nazismo, lo schiavismo. Negli ultimi giorni li abbiamo visti abbattere le statue. Chissà quando smetteranno di voler demolire i simboli della nostra storia, della storia del mondo che evidentemente non conoscono fino in fondo. Sono i nuovi movimenti antirazzisti che hanno preso piede alla fine di questo momento storico molto particolare in seguito all'emergenza della crisi sanitaria. Ma in fin dei conti è stato anche bello vederli in piazza perché vuol dire che il coronavirus non fa più così paura che si può tornare a vivere. Ma soprattutto è stato bello vedere praticamente tutti, ma proprio tutti, riempirsi la bocca di razzismo, schiavismo, spose e bambine anche in Italia. Quindi vuol dire che finalmente si può parlare di pedofilia per il fenomeno delle spose e bambine che nasce nel mondo islamico e africano. Finalmente possiamo recuperare le pagine di storia sulla schiavitù strappate dai nostri manuali. Se si può fare allora lo facciamo oggi insieme e con svelata facciamo un breve percorso, una breve spolverata su questa pagina di storia che è tuttora viva e vegeta. La vittima prediletta dello schiavismo fu sicuramente l'Europa quando Arabi e Turchi gestivano il più ferente commercio di schiavi bianchi della storia dell'umanità. Commercio che si intensificò con l'espansione dell'impero ottomano nel Mediterraneo. I turchi hanno razziato soprattutto le coste dell'Italia, l'Italia meridionale, ma anche della Spagna e dei paesi slavi con rapine, violenze e riduzioni in schiavitù di quelle popolazioni locali che iniziavano ad occupare. E quello è stato il loro hobby, prediletto e meglio riuscito. Oggi semplicemente le modalità sono cambiate un tantino. D'altra parte l'antica legge islamica afferma l'ineguaglianza e l'inferiorità tra gli uomini di diverse religioni, così come quella tra padrone e schiavo, come recita il Corano. Ed è il Corano stesso ad assicurare ai suoi fedeli il diritto di possedere i colli, così sta scritto, dei loro servi. Si può essere oggetto di compravendita o bottino di guerra, poco importa. La schiavitù è un diritto rivendicato dallo stesso Maometto che ebbe dozzine di schiavi, sia maschi che femmine, oltre che spose e bambine. Aiscia, la più famosa delle mogli di Maometto, che vuol dire la madre dei credenti, aveva sei anni quando venne data esposa a Maometto. E resterà tra le mogli la prediletta, oltre a quella che dopo la sua morte più si spenderà e più combatterà per la scissione con gli sciiti considerati un po' meno conservatori, poco ortodossi, rispetto all'Islam sunnita che la voleva difendere in nome di Maometto. Ibn Itta Mikha, che è uno dei primi e certamente più importanti giuristi islamici che ha scritto pagine importanti anche riguardo all'obbligo del velo islamico, scriveva che l'acquisizione dei servi è regolata dalla legge ed è possibile per il musulmano uccidere un infedele o metterlo in catene, assicurandosi in questo caso anche la proprietà legale dei suoi discendenti nati in cattività. Cosa non concessa, al contrario, per un musulmano con un altro musulmano, perché quella islamica, secondo Ibn Itta Mikha, è la più nobile e superiore delle razze. Il traffico di schiavi neri era particolarmente intenso già nel VII secolo quando i mercanti musulmani, operando soprattutto nell'Africa sariana e sub-equatoriale, prelevavano soprattutto dal Mali, dal Niger, dal Shad meridionale, alla Nigeria, dal Camerun, dal Senegal, dal Kenya e dalla Tanzania, milioni di persone per venderle o scambiarle nei grandi mercati del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della penisola araba. Non si trattò mai di un fenomeno sporadico o desueto. Lo schiavismo islamico durerà ufficialmente per 14 secoli e oggi è solo cambiato, lo ripetiamo, i suoi connotati fondamentali. Ha messo in catena oltre 100 milioni di neri e bianchi, rendendo l'attività dello schiavismo quella tra le più numerose, remunerative e assidue tra quelle gestite dai mercanti musulmani. Ricordiamo che all'Epanto, 1571, e a Vienna, 1683, che sono gli ultimi due più importanti attacchi all'Occidente cristiano, prima di quelli della storia contemporanea, tra le file degli islamici, sulle navi da guerra e nelle retrovie, c'erano bianchi e cristiani fatti schiavi che dovevano combattere contro il loro stesso popolo. I turchi per anni e per secoli hanno esercitato ampiamente nei Balcani, in Russia meridionale, in varie aree del Caucaso, come l'Armenia cristiana, la schiavitù. A Istanbul c'è sempre stato un ridente mercato di schiavi, anche se i prediletti sono sempre stati i bianchi cristiani, vittime della pirateria del Mediterraneo, esercitata soprattutto dagli algerini, che per secoli hanno terrorizzato le popolazioni costiere italiane. Una domanda che ha sempre assillato gli storici è stata sicuramente quella circa il perché le discendenze degli schiavi sono sempre state visibili negli USA, in Brasile, nella Repubblica Dominicana, ad Haiti, ma non per Medio Oriente, Iraq, Iran, Arabia Saudita, eccetera. In Arabia Saudita, per esempio, che da sempre, ancora oggi, è il centro del culto islamico, lo schiavismo è stato abolito di fatto per legge, soltanto nel 1962, ma esiste un ben oliato mercato della vendita di domestiche straniere e facilmente reperibili online. Nel 1982, la società, la Anti-Slavery Society, in seguito ad un'indagine, decretò che in Mauritiana c'era una popolazione fantasma composta da almeno 100.000 schiavi e 300.000 semischiavi neri. Nel 1999, la loro vice segretaria degli Stati Uniti d'America per gli affari africani, Susan Rice, chiese un rapporto all'ONU sul tema, ma il presidente Clinton, quando finì quel rapporto sulla scrivania, lo archiviò. Qualcuno sostiene per il poco coraggio di cui era caratteristica dell'allora presidente, ma soprattutto per il timore di ficcare troppo il naso in un paese ancora oggi molto pericoloso come il Sudan. Si tratta in effetti di una vera e propria tradizione del Partito Democratico, però quella di difendere la schiavitù. E sarebbe interessante fare qualche ricerca su Jefferson Davis, per esempio, o James Buchanan. Elosefina Bakhita è stata la prima santa a proposito del Sudan canonizzata nel 2000 da San Giovanni Paolo II ed è stata proprio una giovanissima schiava. La sua storia è legata a quel periodo storico in cui la schiavitù era la norma e la nostra santa Bakhita era una schiava che è stata venduta e rivenduta nei mercati di Khartoum e El Obeid e quando finì nelle mani di un generale turco venne marchiata con un rasoio che disegnava alcuni simboli sul ventre e sul braccio destro e poi ricoperta di sale su quelle ferite aperte per creare delle cicatrici permanenti. La sua agonia e il suo calvario di schiava è stato interrotto soltanto quando nel 1890 venne comprata da un console italiano tale Callisto Legnani che faceva proprio questo comprava i giovani schiavi per renderli liberi in Italia. D'altronde la Chiesa Cattolica anche sulle basi e le conclusioni teologiche di San Tommaso d'Aquino ha sempre rigettato e considerato un peccato la schiavitù che di fatto in Europa è stata praticamente abolita già nei primi secoli del Medioevo e quando l'Europa ha praticato lo schiavismo è stato un episodio molto breve della sua storia non certo poco grave ma molto breve che non aveva le stesse caratteristiche di quello arabo-musulmanio e d'altronde nel Medioevo nacquero anche due ordini trinitari e mercedari solo per liberare gli ostaggi dell'Islam come la più recente Silvia Romano ma oggi a più di un secolo di distanza dalla storia di Santa Bachita tra il Sahara e il Nilo di schiavi ancora ce ne sono e sono schiavi islamici eredi di quella tratta che per secoli ha trasferito con la violenza dall'Africa subsahariana verso le terre arabe e musulmane quasi 14 milioni di schiavi anche il Corriere della Sera all'inizio degli anni 2000 intorno al 2003-2004 ha pubblicato un reportage appuntate sull'argomento e firmato da Fabrizio Gatti per documentare la tratta degli schiavi del XXI secolo e Gatti scriveva è una vecchia storia arabi libici e neri ausa del Niger considerano gli abitanti della costa africana semplicemente inferiori un tempo attraversavano il Tenere e il Sahara sulla stessa rotta per comprarli e renderli come schiavi adesso li ammassano sui canyon peggio delle bestie cammelli e capre fanno viaggi di prima casse al loro confronto hanno sbazio per sdraiarsi fieno e acqua dei clandestini a nessuno muoio interessa se muoiono nel deserto ecco i nuovi umanitari insomma bisogna senz'altro ringraziare però il movimento dei demolitori di statue e degli antirazzisti che adesso si può finalmente avere l'occasione di raccontare di nuovo la storia quella che è stata riscritta nei nostri manuali dai sessantottini però ora che hanno alzato l'assist ci toccherà anche raccontare delle spose sottoposte a mutilazione delle bambine sottoposte a mutilazione genitale femminile anche in occidente chiedete a Ayan Is Ali delle spose bambine e quindi ne parleremo perché no oggi c'è Radio Roma Libera punto org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera punto org www.radioromalibera www.radioromalibera www.radioromalibera